Un protocollo d'intesa tra il Tribunale di Sulmona e la Regione Abruzzo per rafforzare le competenze digitali negli uffici giudiziari, un progetto finanziato con 400.000 euro provenienti dai fondi Porra FSI Abruzzo 2014-2020. A firmare la convenzione questa mattina con il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, anche Giorgio Di Benedetto, Presidente del Tribunale di Sulmona. L'accordo dà il via al progetto Capograssi per la digitalizzazione dei processi, ma servirà a salvare il Tribunale dalla sua chiusura prevista dalla riforma della geografia giudiziaria come conseguenza della legge voluta dal Governo Monti e prevista per il 2021. Una speranza per il Presidente di Benedetto per il quale anzi è fondamentale salvare i piccoli tribunali. Io non condivido la scelta della chiusura dei piccoli tribunali perché ritengo che i tribunali proprio oggi, in questo momento, in cui costituiscono una risorsa indispensabile al sistema giudiziario. Perché? Quando parliamo di organizzazione delle informazioni di cui devono fare uso gli operatori del diritto, noi dobbiamo tener conto del sistema delle informazioni, cioè l'informatica è per definizione sistemica. Ora, i piccoli uffici, in questo caso, sono una risorsa preziosissima perché ho lavorato 12 anni al Tribunale di Roma e lì tutto si può fare meno che avere una visione sistemica del funzionamento dell'ufficio. Il fatto che il processo telematico sia stato partorito all'interno di grandi strutture è stato causa di qualche inconveniente. Ad esempio, abbiamo quasi 12 sistemi informatici che gestiscono il flusso delle informazioni. Il piccolo ufficio è l'unico realtà in cui non solo si ha la possibilità, ma si ha anche una cultura sistemica. Perché il cancelliere, il segretario di un piccolo tribunale, il Tribunale di Avezzano, il Tribunale di Sulmona, è perfettamente consapevole dell'esistenza che al piano di sopra c'è un altro cancelliere che fa una certa altra cosa completamente diversa da quella che fa lui. Però lo incontra, ci parla, ha una cultura sistemica. Quindi in sostanza potrebbe essere, insomma, un primo passo per salvare il Tribunale di questo? Spero, non solo questo, ma non solo il Tribunale di Sulmona. Io spero che tutti i tribunali abruzzesi possano salvarsi, che la stessa Corte d'Appello, in quanto piccola Corte d'Appello, che è a rischio, secondo alcuni progetti, di accorpamento con Corte d'Appello Maggiore, possa invece svolgere questa funzione di piccolo ufficio pilota.